La moscaia di Sidi Ibrahim al-Masmodin si trova nel distritto di Bebla Hadid, nello stato di Tlamsena. Questa moscaia fa parte del complesso architettonico, noto come scuola Jacobienna. Chi oltre alla moscaia continua in Sant'Aurio, una zauja o una scuola, che fu costruita dal sultano Ebu Hamu Musa II durante il XIV secolo. All'inizio, questa luogo era cimetrio del sultano dello stato di Zianua. Con il passare del tempo e molto probabilmente durante la ricerca, sia la moscaia che il Sant'Aurio hanno preso il nome del buon santo Sidi Ibrahim al-Masmodia. La dimensione della moscaia immedia il suo design, si ispira ai disini delle moschie di Sidi Bomedinissi del Halewia. Il suo corcili è circondato da un corridoio nord, che si estende verso nord attraverso una porta sul fronte dell'edificio. Le pareti e le finestre della moscaia sono privi di decorazione. Il mihrà protagonale è coperto da una volta otto lati e sormantato da tre finti finestre. Il minerato quadrongolare non è particolarmente alto. E le sue facciate sono decorate con grandi pannelli, girici e triccia portato su tre archi. Il pannello sotto la griglia è triccia con cini, quattro archi di coraggio e musa.